Ed eccoci arrivati al momento che aspetto di più durante la puntata, infatti c'è la hit delle castronerie. Giuro però che vivo con una certa apprezzione a questo momento perché non so mai cosa dirai, Nat. Ma no, Daiele, sono così brava. Piuttosto sai che il 22 maggio a Bratislava si terrà il primo Pride slovacco, è un evento storico. Sì, e allora? Allora la cosa non è andata giù al leader del partito nazionale, Jan Slota. Immaginavo, ecco. Il nostro uomo ha annunciato di avere tutta l'intenzione di dimostrare ai manifestanti che sono un elemento indesiderabile. Sai come? Ho paura a chiedertelo ma come? Andando in giro per il corteo a sputare alle checche. Ha detto proprio così, sputare alle checche. Che maestro di eleganza e di educazione, il signor Slota. Ma c'è di più. Addirittura? Sì, perché poi per recuperare, aveva fatto un bello scivolone in effetti, ha detto Non ho nulla di personale contro queste persone malate affette da omosessualità congenita. Che vadano a casa loro a fare sesso con i loro amichetti, questi lunatici. Eh? Malattia congenita, lunatici? Ma che dice? Sì, sì, ha detto proprio così. Allora, noi sai che si fa, Ele? Sì, dimmi un po'. Illuminiamo il nostro grande uomo politico sul fatto che l'omosessualità, la transessualità e la bisessualità intanto non sono malattie. Poi, se per congenita si intende presente fin dalla nascita, il dibattito su questo tema potrebbe durare delle ore. Eh sì, in realtà sì. Ma certamente non è il caso di paragonare l'essere gay, ad esempio, alla sindrome di Down o altri morbi invalidanti che colpiscono i bambini fin dalla nascita. Va bene, dai, è chiaro. Siamo di fronte all'ennesima castroneria. E poi, Ele, lo sanno tutti che la lunaticità è una caratteristica dei nati sotto il segno del cancro. Ma non è il tuo segno a proposito. Appunto, appunto. E non necessariamente del mondo gaio. Quindi consigliamo al signor Zolotta di dedicarsi all'astrologia piuttosto che alla politica. Almeno non rischia a figurarci. E allora, siamo pronti per fare il punto sulla notizia della settimana, vero Nat? Sì, Ele, ce n'è una assolutamente degna di nota, anche perché è una notizia buona. Oh, meno male. Però per avere notizie buone devono arrivare da Buenos Aires, cioè Argentina, giusto? Sì, Ele, dopo ben 12 ore di dibattito, pensa quanto hanno discusso, la Camera dei Deputati, con 125 voti a favore e 109 contrari, ha approvato la proposta di legge che permette alle coppie gay e lesbiche di sposarsi e anche di adottare figli. Oh, una decisione trasversale presa da parlamentare di destra e di sinistra, pensa un po', da cui forse anche l'Italia dovrebbe prendere esempio. Già, in America Latina è anche la prima volta che un Parlamento approva una proposta di legge con valenza nazionale. Fino ad ora, infatti, esistevano solo iniziative territoriali, ad esempio Città del Messico era una di quelle città in cui ci si può già sposare. Ma come potevamo immaginare, la reazione della Chiesa Cattolica Argentina in realtà è stata durissima. Monsignor Martino ha parlato di passo avanti molto grave e ha già cominciato a dare battaglia dato che il progetto di legge deve passare al vaglio del Senato. Ovviamente il terreno dello scontro è soprattutto quello dell'adozione dei figli da parte delle coppie gay. Ne parliamo con il nostro ospite di oggi, Ivan Scalfarotto, vicepresidente del PD. Buonasera Ivan, benvenuto ad Oltre le Differenze. Buonasera. Ivan, noi stavamo parlando delle aperture che ci sono e che arrivano un po' da tutte le parti del mondo. Pensiamo all'Argentina che ha approvato definitivamente la legge sui matrimoni gay o comunque la sta discutendo in Senato, però c'è stata l'apertura della Camera. Ti chiedo, visto che ho registrato una certa sensibilità anche a destra su questi temi, quali sono le posizioni della sinistra come intende muoversi dopo che ci sono stati diversi discorsi in passato, diverse proposte, penso ai Dico, ai Cus, ai Didorè. Ma innanzitutto io smentirei la notizia, non c'è nessuna apertura a destra, nessuna apertura sostanziale rilevante in tema di diritti. A parte belle parole, d'altro canto la destra, molti seggi di maggioranza, la Camera e il Senato, se ci fossero delle intenzioni non dovrebbero fare altro che approvare una legge, cosa che vi comunico non faranno. Quanto alle aperture nel resto del mondo? Io non ne sono per niente stupito, i diritti evolvono col tempo, in questo tempo le coppie omosessuali sono una realtà che la politica non può ignorare e quindi vari paesi di varie sensibilità legiferano su un fenomeno sociale. Purtroppo qui non succede, la mia parte politica io credo che abbia le medesime responsabilità dell'altra parte politica perché questa è una cosa purtroppo bipartisan, segnalo soltanto la sentenza della Corte Costituzionale del mese scorso che ha detto che le coppie omosessuali sono formazioni sociali senza l'articolo 2 della Costituzione che come tali vanno tutelate, per cui la politica almeno davanti a questo dovrà prima o poi decidere il da farsi. Grazie mille Ivan, a presto. A presto. Bene, ringraziamo Ivan Scalfarotto di essere stato con noi. E ci prendiamo una pausa ma poi torniamo con lo spazio testimonianza che questa sera è dedicato alla discriminazione anti-gay nel mondo del lavoro. Mi raccomando, chi non resta in ascolto non va oltre le differenze.